Con Roberta Casini, candidata per il centro-sinistra nel Collegio Plurineumale per la Camera dei Deputati, parliamo di un argomento che viene affrontato poco in questa campagna elettorale, ambiente e emergenza ambientale. Per me l'ambiente e le emergenze ambientali, purtroppo i cambiamenti climatici, sono l'emergenza dell'emergenza in questo momento, perché noi dobbiamo pensare anche a quello che consegniamo ai nostri ragazzi e al loro futuro. E allora dobbiamo portare interventi importanti contro i cambiamenti climatici, questo serve anche ad essere incisivi anche sul carobollette, perché dobbiamo pensare che se si guarda un pochino più oltre, quindi se si pensa soltanto alle rinnovabili e quindi andare verso un'altra strada, verso quello che può essere anche economicamente più conveniente, allora possiamo incidere davvero anche sulla questione ambientale. Il pianeta ha bisogno di aiuto e ha bisogno di noi, non possiamo assolutamente più tirarci indietro, il momento è questo e non è assolutamente rinviabile. Come possiamo intervenire nell'immediato? Ma per esempio con delle riforme fiscali, la famosa riforma fiscale verde, volta ad incentivare aziende e famiglie a incrementare le rinnovabili. In questo modo possiamo avere quindi una cura maggiore per il nostro pianeta.